Cosa vuol dire fare vino biologico in termini di impegno, in termini di numeri, in termini di tempo? Allora, comporta un impegno decisamente superiore. Quantificarlo spesse volte non è semplice. Il concetto del biologico è un concetto di salvaguardia del campo, della pianta, del raccolto. Il concetto del convenzionale è quello di poter dare una protezione totale al frutto che c'è, però questo ne comporta che questa protezione rimane. Nel nostro caso invece riusciamo molto più spesso sui campi per procedere a dei trattamenti che sono biodegradabili e quindi diciamo in proporzioni tempistiche il nostro impegno è quattro volte tempo superiore a quelli convenzionali. Parliamo anche di fattori di attenzione. Spesse volte non ci avvaliamo di terzisti, il lavoro lo conduciamo noi. Il controllo per vedere la sanificazione o la sanità del nostro vigneto quella si la conduciamo noi e non è possibile in alcuni aspetti demandare questi fattori qua. Quindi portando a casa un prodotto sano vuol dire anche poter usare meno solfiti e meno aiuti diciamo. Assolutamente questo è l'obiettivo finale. Quindi noi dobbiamo assolutamente essere noi stessi garanti che quello che io vado a portare nelle cisterne è un prodotto pulito, sano e che mi dà questi risultati. Certamente.